Ciao a tutte e a tutti, sono Jacopo Orenda, militante di sinistra classe rivoluzione che è la sezione italiana della tendenza marxista internazionale. Oggi siamo qua per parlare della Spagna, in particolare del governo delle sinistre spagnolo, un governo guidato da Pedro Sanchez, del Partito Socialista Operaio Spagnolo e da Pablo Iglesias di Unidas Podemos. Un governo che crediamo sia molto utile analizzare perché ci dimostra come i vertici del movimento dei lavoratori si stanno comportando di fronte alla pandemia. Peraltro dobbiamo dire che Pedro Sanchez è una figura di riferimento all'interno del Partito Socialista Europeo e Pablo Iglesias è sicuramente uno dei dirigenti più importanti di quella che è la cosiddetta sinistra radicale. In qualche modo Podemos in molti paesi è stata vista in una certa misura come un modello. La Spagna arriva da un periodo molto turbolento, un periodo di lotte, un periodo nel quale la crisi sociale e la crisi economica hanno prodotto una vera e propria esplosione di mobilitazioni che abbiamo visto in molti esempi. Sicuramente quello che è saltato anche in Italia, in qualche modo al centro del dibattito politico è quello che riguarda la Catalogna. È riesplosa la questione nazionale che però va vista come parte di un processo, un processo appunto che è più generale e dentro il quale abbiamo visto un'enorme polarizzazione politica. Da una parte la destra che ha governato per molti anni in Spagna e che ha visto crescere al suo interno un settore come quello di Vox estremamente reazionario, apertamente fascista con dei richiami molto chiari al franchismo e in qualche modo questo è stato il cuore del dibattito politico che poi ha portato alle elezioni nel novembre dello scorso anno che hanno portato poi qualche mese dopo nel gennaio del 2020 alla nascita del governo Sanchez e nel quale dobbiamo dire che questa enorme polarizzazione si è espressa e abbiamo visto anche un fenomeno che vediamo spesso quando siamo di fronte a queste situazioni, di fronte a due forze politiche che combattono la destra e quando a livello di massa elemento fondamentale è combattere la destra, le persone tendono a votare a sostenere il più grande dei due partiti, soprattutto nella misura in cui questi due partiti hanno dei programmi molto molto simili. È in questo contesto che il PSOE si è avvantaggiato di questo processo di polarizzazione nel quale da una parte c'era una destra retriva che voleva tornare indietro, che voleva mettere in discussione i diritti civili, che voleva attaccare frontalmente i lavoratori, che aveva un richiamo aperto al franchismo e dall'altra tutti coloro che in una certa misura volevano andare amanti, tutti coloro che si volevano opporre alla marea nera che stava crescendo e che poi ha portato Vox ad essere il terzo partito nell'elezione di novembre raccogliendo più del 15%. Un governo quindi che è nato con una certa aspettativa da parte di un settore significativo, con l'idea che in qualche modo si potesse fermare la forza e lo strapotere della destra, che si potesse combattere la Chiesa, che è un'istituzione particolarmente reazionaria in generale e in Spagna in particolar modo, e ovviamente anche che si potesse aprire una battaglia nei confronti della monarchia, che appunto si è caratterizzata storicamente per essere un'istituzione estremamente corrotta ed estremamente reazionaria. Il programma con cui è nato questo governo era un programma che in qualche modo, pur timidamente, lasciava qualche speranza. C'era l'aumento del salario minimo, c'era la messa in discussione di alcune leggi reazionarie fatte dalla destra, la Lei Mordassa, una legge particolarmente restrittiva dei diritti democratici, e la riforma del lavoro fatta dal Partito Popolare. Ovviamente si è fatto molto poco in questa direzione. C'è stato un aumento del salario minimo, da 900 a 950 euro. Si è detto che si sarebbe messa in discussione la riforma del lavoro in un percorso che andava registrato nei lavori parlamentari, ma già, per esempio, sull'agosto della monarchia, il cedimento è stato enorme perché di fronte allo scandalo che ha messo di fronte le responsabilità della monarchia nei suoi rapporti con la monarchia reazionaria dell'Arabia Saudita, le forze della sinistra, in un voto bipartisan insieme alla destra, hanno proibito che il re rispondesse di fronte al Parlamento di queste accuse evidentemente con un elemento nel quale la ragione di stato veniva prima di quella di smascherare un settore così reazionario e così corrotto, come era la monarchia. Evidentemente, di fronte a questa situazione, anche quei settori della classe dominante, che avevano in particolar modo delle paure rispetto alla presenza di Unidas Podemos e quindi di Podemos e di schierda unita all'interno del governo, hanno capito che dovevano essere tranquille e non è casuale che la banca d'affari statunitense Morgan Stanley abbia definito questo tipo di governo più che affidabile. Evidentemente quella pressione che c'era da parte delle masse ed è che quella che poi ha portato questo governo al potere poteva essere gestita. Ancora una volta, di fronte alla gestione della crisi, la borghesia pensa che i vertici del movimento operaio sono quelli migliori per portare avanti alcuni tipi di politiche. La pandemia del coronavirus è stata evidentemente un elemento che ha messo enorme pressione a questo governo, un elemento che ha assolutamente acuito quegli elementi di divergenza, di profonda ingiustizia e di profonda differenziazione di classe che nello Stato spagnolo si vedono particolarmente. Pedro Sanchez è andato in Parlamento quando è iniziata la pandemia e ha detto siamo di fronte alla situazione peggiore che vediamo in Spagna dalla guerra civile e in una certa misura ha ragione a dire questo. È anche vero che così come nella guerra civile le forze del movimento operaio e tutte le forze politiche in generale vengono messe duramente alla prova da quelli che sono gli eventi. La Spagna è il paese che ha più contagi in Europa, ha più contagi in assoluto e soprattutto ha più contagi in relazione al numero degli abitanti. 220.000 contagi e 26.000 morti con un aumento vertiginoso delle morti, soprattutto nelle prime settimane e particolarmente nella regione di Madrid e in Catalogna. E di fronte a questo, così come è accaduto per il governo italiano e per altri governi, i ritardi nella chiusura sono stati enormi. Sono stati i lavoratori a farsi carico di porre il problema e porlo con la loro forza, porlo dimostrando il fatto che senza di loro la società non può funzionare. Ed è così che sono iniziate le mobilitazioni alla Mercedes di Vittoria, all'Iveco di Valladolid, ad Amazon e più in generale attorno a queste mobilitazioni simboliche si è posta la questione della sicurezza. Se non fosse stato per l'intervento diretto dei lavoratori questo processo sarebbe ulteriormente ritardato e il numero dei morti sarebbe stato ancora superiore. Malgrado ciò, il 50 per cento delle attività non essenziali sono rimaste aperte. Abbiamo visto qualcosa di simile a quello che abbiamo visto anche in Italia, una volontà da parte dei padroni di subordinare la salute dei lavoratori ai loro profitti. E non è casuale che appunto la ministra dell'economia Nadia Calvigno abbia dichiarato che c'era il rischio che le imprese perdessero fette di mercato qualora si fosse fermata la produzione. Come dire, un cinismo che abbiamo visto anche in tutta una serie di altri paesi e che in Spagna è stato pagato particolarmente caro. Dobbiamo dire purtroppo che a questo coro si è unita anche la cosiddetta estrema sinistra, la cosiddetta sinistra radicale. Pablo Iglesias è all'interno della cabina di regia del governo che gestisce la crisi e Alberto Garzoni, il leader di Schierda Unida e che è anche ministro, il 15 di aprile ha dichiarato al quotidiano pubblico i nostri interessi in questa fase coincidono con gli interessi delle imprese. Ed è vero perché in questo momento gli interessi del governo, non certo dei lavoratori, coincidono con quelli delle imprese. settori come il settore delle telecomunicazioni sono rimasti aperti e questo non solamente per ciò che riguarda il cosiddetto settore del servizio ai clienti ma anche per ciò che riguarda il servizio di vendita. Questo è qualcosa di molto significativo. Certamente il governo ha preso delle timide misure nei confronti dei lavoratori e delle classi subalterne. Per esempio ha utilizzato massicciamente quella che era la cassa integrazione, per esempio ha posticipato, congelato gli affitti e i mutui e però congelare non vuol dire cancellare, vuol dire semplicemente posticipare il pagamento e in Spagna c'è una situazione nella quale la media dei lavoratori sotto i 35 anni spende il 40% del suo salario per pagare l'affitto. Sono stati dati però, come contraltare di queste piccole misure fatte nei confronti dei lavoratori e delle classi subalterne, una pioggia di soldi alle imprese, 100 mila milioni di euro regalati alle imprese e i lavoratori non hanno avuto nessun ruolo nella gestione della crisi. Ci si immaginerebbe che un governo delle sinistre possa mettere al centro di questa crisi i lavoratori, costruire la loro partecipazione, costruire soprattutto il loro controllo sulla salute. Non è stato fatto nulla di tutto questo. Il controllo è rimasto saldamente nelle mani dello Stato, dell'esercito, della polizia. È stata utilizzata una legge reazionaria fatta nel 2015 dalla destra come la Lei Mordasa per fare 750 mila multe a quelli che criticavano lo Stato d'eccezione o che in qualche modo violavano le regole che il governo e la Confindustria avevano messo in campo. E quindi di fronte a questa situazione dobbiamo dire che il governo ha completamente capitolato di fronte alla classe dominante. C'è anche da dire che si è detto in particolar modo in Italia che il governo aveva utilizzato la questione della sanità per dimostrare la sua diversità per esempio da altri governi eccetera. In Italia addirittura si è detto, ci sono state numerose notizie che ci informavano che il governo era un governo che aveva requisito le aziende private. Nulla di più lontano dalla verità. In primo luogo c'è da dire che l'affermazione che è stata fatta da Pedro Sanchez in base alla quale il governo spagnolo era in prima fila la difesa degli interessi della sanità eccetera è assolutamente falsa. Non c'è la sanità migliore del mondo in Spagna come come è dichiarato il primo ministro, tutt'altro e ci sono dei dati che sono assolutamente incontrovertibili per dimostrare questa cosa. Il primo dato è il dato appunto dei contagi. Sono in rapporto ai cittadini il numero di gran lunga più grande e il fatto che questo contagio sia stato prevalentemente a Madrid e in Catalogna ha una responsabilità importante della destra. La destra che strumentalmente prova a criticare il governo dicendo che non ha chiuso tutto o dicendo che non fa ciò che dovrebbe, ha la stessa identica posizione demagogica che ha per esempio la Lega in Italia. Forze privatizzatrici, forze che hanno smantellato la sanità pubblica, questo a Madrid è particolarmente evidente. Madrid, una città, una regione governata prevalentemente dalla destra negli ultimi dieci anni, ha perso 3.600 lavoratori del settore sanitario e questa è la dimostrazione più di ogni cosa di quanto la destra non abbia nessun diritto di esercitare delle critiche al governo ma che invece queste vadano esercitate da sinistra dal fronte dei lavoratori. Peraltro non è secondario il fatto che molte delle cliniche private e molte delle residenze per anziani siano di proprietà della Chiesa Cattolica e sappiamo che il legame stretto c'è tra la Chiesa Cattolica e la destra e non è casuale che malgrado la pandemia alla Chiesa Cattolica sia stato permesso di continuare in larga parte le funzioni eccetera eccetera anche durante la pandemia. Il dato è indicativo e dimostra lo sfascio della sanità pubblica spagnola, non solamente le immagini che abbiamo visto ovunque sui telegiornali, sui giornali a livello internazionale di persone che venivano lasciate ore, giorni per terra non solo nelle barelle ma addirittura sdraiate per terra nei corridori degli ospedali ma il dato significativo è che 40.000 persone su 220.000 malati in generale di coronavirus siano parte del personale sanitario. Stiamo parlando appunto di 40.000 su 220.000 che è la dimostrazione evidente di come le misure di sicurezza negli ospedali e nelle residenze per anziani sono state prese tardivamente e sono state assolutamente insufficienti. Il dato dei morti nelle residenze per anziani è veramente scandaloso. Il 67% dei deceduti per coronavirus in Spagna è avvenuto all'interno delle residenze per anziani e questo dato è estremamente più grande perché? Perché in particolar modo a Madrid c'è una polemica politica e ci sono anche delle indagini della magistratura perché non si è a conoscenza del vero, del reale numero di anziani che sono morti in queste residenze. C'è un'enorme opacità da parte del governo madrilegno ma anche del governo nazionale perché evidentemente questo metterebbe in luce lo scandalo della sanità privata e come gli anziani siano stati considerati evidentemente dei derelitti della società che appunto potevano essere lasciati a morire. La sanità privata non è stata affatto requisita semplicemente nel momento di maggior pressione sugli ospedali il governo ha imposto alla sanità privata che le prestazioni non fondamentali fossero sospese. Oggi in un paese nel quale il 33% dei posti letto sono privati solamente una minoranza di questi posti letto, solamente il 12% è occupata e quindi stiamo dicendo che c'è una parte molto importante dei posti letto della sanità privata che ad oggi nel cuore dell'emergenza e con decine di migliaia di morti non vengono utilizzate. Ma c'è di più. È veramente scandaloso che si dica che la sanità privata in una certa misura in modo caritatevole per farsi carico del fatto che tutti sono sulla stessa barca abbia aperto le proprie porte ai malati di coronavirus. Non è così. Lo Stato spagnolo paga 250 euro al giorno per le persone che sono ospedalizzate nella sanità privata e paga 700 euro al giorno per quelle che sono in terapia intensiva nella sanità privata. Stiamo dicendo e stiamo parlando di 30 milioni di euro di profitti al mese. Quindi altro che requisizione siamo di fronte al fatto che queste aziende che sono le stesse aziende che in molti casi stanno ricorrendo alla cassa integrazione si stanno ingrassando di profitti pubblici e che differentemente da quanto sarebbe dovuto accadere non sono state espropriate non sono state utilizzate pienamente per rispondere a questo tipo di pandemia. E questo in una situazione in cui i lavoratori della sanità stanno facendo turni di 12 ore, stanno facendo turni senza i riposi settimanali, senza i riposi festivi eccetera. È stato calcolato che nel mese di aprile un lavoratore della sanità ha lavorato in una settimana il numero di ore che generalmente lavora in un mese. È questa la pressione sulla quale che hanno su di loro i lavoratori della sanità in una situazione appunto in cui la sanità privata continua ad ingrassarsi di profitti. Abbiamo di fronte una situazione molto molto delicata in Spagna. Siamo di fronte a una situazione che è necessariamente destinata a peggiorare nei prossimi mesi e nelle prossime settimane, se non nel campo sanitario sicuramente dal punto di vista economico. La Spagna è un paese che già prima di questa crisi soffriva un'enorme crisi economica, aveva il 14% di disoccupazione, un'economia che ha una base industriale molto fragile, che si basa per esempio per il 13% del proprio prodotto interno lordo sul turismo, che sappiamo avrà e sta avendo un crollo incredibile. Nel mese di marzo in Spagna c'è stato un crollo dei turisti del 64% e fino allo scorso anno tra le mete europee la Spagna era quella che attraeva il numero maggiore di turisti. Siamo di fronte quindi a una situazione in cui ci si aspetta un ulteriore crollo dell'economia. Secondo l'Unione Europea la Spagna sarà il terzo paese per dato negativo di crescita economica nel 2020, 9,4% in meno e però appunto già abbiamo visto una esplosione della disoccupazione. Abbiamo in questo momento una crescita molto significativa della disoccupazione, ci sono 600 mila persone nel mese di aprile che sono andate in cassa integrazione, c'è una crescita della disoccupazione di 280 mila persone che porta la disoccupazione a 4 milioni di persone, una cifra incredibile e questo a dispetto di quello che ha detto il governo secondo il quale ci sarebbe stato il cosiddetto blocco dei licenziamenti. Evidentemente il ricorso gigantesco alla cassa integrazione che è aumentata di 36 volte rispetto al trimestre precedente presuppone una enorme ondata di licenziamenti e già i primi appunto li abbiamo visti, circa 280 mila che sono quelli a cui non sono stati rinnovati i contratti per non parlare di tutto il settore del lavoro nero che ovviamente non è contabilizzato e per non parlare di quel settore che pure è significativo in Spagna di coloro che non studiano e che non lavorano e cioè che sfiduciati di fronte a questo tipo di società non non cercano più lavoro e non hanno più la condizione per studiare. Siamo di fronte quindi appunto a una situazione rispetto alla quale la pavidità, la subalternità che il governo ha dimostrato di fronte agli interessi padronali non potrà dare delle risposte adeguate e siamo di fronte quindi a una situazione in cui vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, in particolar modo quando terminerà l'emergenza sanitaria, una emergenza sociale e vedremo la Spagna tornare uno degli scenari principali della lotta di classe in Europa. I lavoratori spagnoli hanno dato dimostrazione più volte della loro combattività. Lo hanno fatto in questa pandemia mettendosi in prima linea per spingere, per costringere il governo a bloccare parzialmente la produzione e questo lo hanno fatto anche a dispetto delle stesse organizzazioni sindacali che non hanno diciamo avuto la volontà come dire di andare allo scontro e di rispondere a quello che è precisamente il loro ruolo cioè quello della difesa particolare degli interessi dei lavoratori. La propaganda che c'è in questo momento è una propaganda che prova a spingere tutta quanto il dibattito verso una unità nazionale. Un'unità nazionale che si è vista anche in questi giorni in Parlamento. Il PSOE e Unitas Podemos è dovuta ricorrere ieri al sostegno del voto della destra del Partito Popolare per prolungare lo stato d'eccezione e questa è un po' la musica che potremmo vedere in futuro. Non è casuale che in questo momento si stia tirando fuori un elemento che è stato caratterizzante di quella che è stata la politica dei vertici del movimento dei lavoratori dopo la caduta del franchismo nel periodo della transizione e in un periodo nel quale cioè un'ambizione, un'aspirazione rivoluzionaria veniva soffocata attraverso un patto fatto dai dirigenti del movimento operaio, dalla borghesia e con la benedizione del re che invece aveva giocato come tutti sanno e come è storicamente riconosciuto un ruolo fondamentale nell'ascesa e nel consolidamento del potere fascista di Franco. Oggi si sta riproponendo quel tipo di patto, si sta riproponendo il cosiddetto patto della Moncloa, cioè quel patto che faceva in modo di subordinare gli interessi dei lavoratori agli interessi della borghesia e del grande capitale. Evidentemente gli anni che abbiamo alle spalle hanno detto qualcosa di diverso. Le mobilitazioni che ci sono state sono state le mobilitazioni che hanno sfidato la destra, che hanno sfidato le politiche padronali, la riforma del lavoro, che hanno messo fortemente in discussione la Costituzione del 78, in particolar modo sulla questione nazionale, in particolar modo con i movimenti che abbiamo visto in Catalogna. Evidentemente se la sinistra continua a ripercorrere questa strada, la strada del patto sociale, la strada della subordinazione degli interessi dei lavoratori agli interessi del grande capitale è destinata a subire ulteriori sconfitti e come sappiamo, come abbiamo visto più volte, le politiche moderate, le politiche che rincorrono la destra sul suo terreno, in particolar modo sulla questione nazionale, ma anche provando a moderare la propria politica e ad accettare dei compromessi che poi non sono mai dei veri compromessi, sono la capitolazione agli interessi dei padroni. Se la sinistra farà questo, evidentemente saremo di fronte sicuramente a una crescita della destra, ma questa non potrà avvenire senza che ci sia un piano generalizzato di lotta in Spagna. La Spagna in questi anni si è caratterizzata per avere movimenti di tutti i tipi, movimenti sociali, movimenti sulla questione nazionale, movimenti sulla questione degli affitti e della casa, movimenti sulla questione ambientale, movimenti per la laicità dello Stato e contro il ruolo reazionario della Chiesa e della monarchia. Fino a qualche anno fa era difficile vedere le bandiere repubblicane nelle manifestazioni in Spagna. Oggi in particolar modo tra i giovani la bandiera repubblicana è un simbolo di libertà, è un simbolo di lotta alla reazione. O appunto la sinistra saprà rompere con questa logica di collaborazione di classe, oppure evidentemente capitolerà e vedremo una nuova ondata di lotta dalla quale potranno emergere quelle avanguardie, quelle figure in grado di combattere il corpo a corpo che la borghesia spagnola, particolarmente arretrata e reazionaria, metterà in campo. Perché, come dimostra questa pandemia, non è assolutamente disponibile a perdere un euro, non è assolutamente disponibile a mettersi in secondo piano rispetto alla difesa dei suoi interessi. Non lo ha fatto di fronte a una tragedia come quella del coronavirus con 220 mila ufficiali ammalati e con 27 mila morti ufficiali. Non lo farà certamente quando la lotta non sarà più negli ospedali e non sarà più nelle residenze per anziani, ma si sposterà nelle piazze e nelle fabbriche.